benissimo stiamo andando a montare eccoci qua dentro dobbiamo suonare eccoci qua qua dobbiamo suonare ragazzi signori siamo arrivati ci parcheggia ci diamo ragazzi prove generali per domani sera seguite le dirette non c'era la voce non c'era la voce non c'era la voce non c'era la voce E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo Ma che siamo in diretto su Facebook, signori, forza Ci vorrebbe un'anzitella, ci vorrebbe un'anzitella E come c'era con un superballo, e come c'era l'aninella mia E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo Ma che siamo in diretto su Facebook, signori, forza E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo Ma che siamo in diretto su Facebook, signori, forza E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo Ma che ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo E ci vorrebbe un'anzitella, tu si balla, c'ho il tuo No, 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 no. No, 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 no Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì.